Ok, eccomi, io sono Antonio, sono un co-founder di 3D Italy, purtroppo ci sono solo io oggi perché in realtà siamo in quattro, gli altri tre stanno lavorando, quindi questo significa che una piccola start-up come la nostra è nata a febbraio dell'anno scorso grazie alla Maker Faire, grazie ad Arduino, grazie ad una serie di personaggi come ad esempio Alessandro Moranellucci che è qui a Wasp, Sharebot che sono delle aziende di stampa 3D ormai famose in tutto il mondo, possono realizzare un po' il loro sogno. Noi abbiamo iniziato un anno fa più o meno, siamo un piccolo laboratorio qui a Roma, un piccolo store nato al Pigneto, siamo dei maker perché fondamentalmente facciamo tutto noi stessi, cioè con le mani, ci mettiamo giorno dopo giorno a costruire anche le strategie in modo maker, questo è quello che ci piace. Da piccolo negozio poi abbiamo conosciuto grazie a questi eventi come la Maker Faire e come tanti altri ormai a livello nazionale sulla stampa 3D, un gruppo di persone fantastiche che bene o male riescono a fare rete. In un mercato classico, in un mercato tradizionale è difficile trovare delle persone che pur essendo delle aziende concorrenti si trovano benissimo, bevono una birra insieme e magari la sera stessa dell'evento tirano fuori un progetto. Beh, noi durante il percorso della Maker Faire, che per noi è stata una grande sfida, un grande successo, abbiamo messo insieme più aziende. Qui abbiamo formato eserciti di futuri maker, di inventori, di creativi, cioè durante il percorso di un anno abbiamo fatto una serie di corsi di formazione che in università, enti pubblici ma anche privati, lavorando sulla formazione e sulla stampa 3D e divulgando quello che può essere l'aspetto sia formativo ma sia soprattutto produttivo delle stampanti 3D. Ma soprattutto abbiamo portato avanti la nostra filosofia, quindi che è quella che se lo puoi immaginare lo puoi creare. Il cliente che viene da noi ha una rete adesso di centri di sviluppo, progetti in continua espansione a cui rivolgersi. Quindi magari anche dei ragazzi che non hanno le capacità di modellare 3D oppure non hanno neanche gli strumenti digitali per poter andare avanti con i loro progetti che possono trovare nel nostro store le potenzialità e gli strumenti. Da noi si presentano ragazzi con una penna USB oppure con un'idea oppure con un foglio di carta in mano e ci dicono sviluppiamo insieme un progetto. Beh allora ci sediamo a tavolino e tutti insieme cerchiamo di realizzarlo concretamente. All'interno dello store si trovano scanner 3D, stampanti 3D, colle, vernici, frese, una serie di strumenti che servono per realizzare i prototipi. Alessandro prima, Alessandro Lallucci faceva vedere un plastico, anche noi viviamo quella filosofia, nel senso prima c'era la classica prototipazione 3D magari un po' più costosa, adesso grazie a questi strumenti low cost si riesce a fare dei prototipi e anche molto più economici. Massimo Moretti che è l'ideatore di Wasp quando ci diede un anno fa la macchina ci disse voi se vi mettete sul mercato a fare prototipazione rapida siete dei pazzi perché questa tecnologia ancora non è matura per poter, invece noi ci abbiamo provato un anno fa e devo dire che i risultati sono stati ottimi. Dall'architettura anche al design, quindi i fashion designer hanno finalmente un modo economico e competitivo per realizzare le loro creazioni quindi anche con un'idea possono venire da noi e realizzare i propri oggetti ma soprattutto anche i bricolaires. Questo è un esempio classico, un signore aveva un attrezzo da giardino con un volano distrutto, completamente distrutto, beh la casa produttrice dell'attrezzo da giardino gli chiese 600 euro per cambiare tutto il blocco motore. Beh da noi è venuto col pezzo rotto, l'abbiamo rimodellato e alla fine gliel'abbiamo ristampato, lui con 60 euro ha rimesso a posto l'attrezzo da giardino quindi questo è un esempio classico per far vedere insomma che anche chi è lontano dal mondo professionale eccetera può avvicinarsi al mondo del 3D. Quindi oltre a lavorare con bricolaires, architetti e designer lavoriamo anche con grandi aziende quindi tipo Ondetalia, Trellenborg, Pirelli, Samsung che si sono avvicinate alla stampa 3D e prima facevano prototipi da noi adesso hanno comprato le macchine e le abbiamo fatto formazione quindi significa che questi strumenti insomma sono anche di alta qualità e riescono a realizzare dei prodotti di alta qualità. A volte spesso siamo i clienti di noi stessi nel senso che facciamo le 3D notte per realizzare con le nostre mani i nostri prodotti che ci servono anche per questo nuovo progetto che stiamo tirando fuori, cioè una rete di franchising, franchising forse è una parola brutta, noi l'abbiamo chiamata social franchising perché siamo alla ricerca di ragazzi che hanno bene o male la nostra età e hanno voglia di fare che hanno voglia di aprire una piccola start up nella loro città con dei piccoli maker space, centro sviluppo progetti dove diciamo il maker può trovare tutti gli strumenti che gli servono dai filamenti per la stampa 3D, dagli scanner ad Arduino che è uno insomma dei prodotti che rivendiamo. In occasione dell'inaugurazione il 22 marzo di Pescara abbiamo ricostruito l'elefante di Vincenzo Michetti, quindi abbiamo rimodellato l'elefante che stava in piazza grazie a Giampiero che è uno dei ragazzi che fa modellazione nello store, rimodellandolo completamente poi l'abbiamo stampato. Il modello finale era alto circa 40 centimetri poi assemblato e lì in piazza insomma ha riscosso parecchio successo perché magari si pensa spesso che la stampante 3D possa solo produrre dei braccialetti, dei bicchieri o dei vasi che vediamo sempre in giro per le fiere insomma. Tra i numerosi tools c'è Arduino perché il cuore delle stampanti 3D di tutto il mondo è Arduino quindi nei nostri store non poteva mancare oltre vabbè a droni, scanner e stampanti ma soprattutto ospitiamo degli oggetti di design frutto di intuizioni tipicamente maker come mezzo pollice. Mezzo pollice è diciamo un mezzo pollice proprio dei tubi idraulici messi insieme che creano una lampada e è una lampada che insomma ha anche una bellezza e un bel oggetto insomma di design. Quindi tutto quello che proviene dal mondo maker, dalle start up innovative deve essere e lo vogliamo come negli store di 3D Italy. Questo significa che magari può saltare una serie di filiere di distribuzione che dicevamo prima e può trovare un canale diretto con il pubblico magari in tutte le città. I giovani creativi e i maker dopo aver realizzato i loro prodotti nei fab lab magari potranno usare i nostri store per venderli. Questa è diciamo l'idea di fondo del team che vedete lì. E oltre diciamo agli store abbiamo lanciato un'applicazione adesso mobile per news sul mondo delle stampanti 3D per la ricerca degli store, l'invio degli STL quindi anche l'anteprima dell'STL. L'STL è il file che serve per la stampa 3D, per stampare in 3D. Beh, scaricando questa applicazione si può visualizzare l'anteprima, l'STL e poi inviarlo nello store magari più vicino. La prossima apertura sarà a Ragusa l'11 maggio, poi Torino e Milano. Grazie. Grazie.